Siamo lieti di presentarvi un interessante appezzamento di terreno edificabile, situato nella località di Centobuchi di Monte Prandone in una zona residenziale di interesse e già densamente urbanizzata. Con una superficie di circa 3.900 metri quadrati, questo terreno è perfetto per progetti residenziali di qualità ed abitativi. Il nostro terreno offre un indice di edificabilità di 2,5 metri cubi su metro quadro, consentendo la realizzazione di una volumetria massima di circa 9.700 metri cubi. Questo significa che avrete la possibilità di creare una struttura residenziale o più strutture spaziose e moderna, perfettamente adatta alle esigenze di famiglie e professionisti. Un vantaggio significativo di questo terreno è la sua posizione strategica, a breve distanza dal centro del paese e dai principali servizi. I residenti potranno godere di un facile accesso a negozi, scuole, autostrada, stazione ferroviaria e molto altro ancora. Questa comoda posizione garantirà anche un sicuro interesse per le abitazioni che andrete a realizzare. Inoltre, abbiamo a disposizione un progetto preapprovato, sebbene non vincolante, per la realizzazione di sedi civillini ad un solo piano. Tuttavia, l'acquirente avrà la flessibilità di scegliere la tipologia residenziale che meglio si adatta alle proprie esigenze. Che si tratti di palazzine, appartamenti o altre soluzioni residenziali, il nostro terreno si adatterà perfettamente al vostro progetto. Da non trascurare è anche il fatto che il terreno sia completamente pianeggiante e di forma regolare, facilitando così il processo di costruzione. Risparmierete tempo e costi nella preparazione del terreno, potendo concentrarvi maggiormente sulla realizzazione di una struttura di qualità superiore.